Buonasera a tutti, sono due parole per darvi il benvenuto a questa serata con i Gem Vende. L'incontro è promosso dal punto famiglia e dal movimento dei focolari del Mugello per dare un piccolo contributo alla pace, visto il momento che viviamo, c'è tanto bisogno della pace. Prima di incominciare do un saluto anche ai rappresentanti delle amministrazioni locali che sono presenti, a parro, nella parrocchia che ci ospita, insomma, e poi, mi scuserete se non saluto tutti, ma insomma, anche, ecco, visto sì, sappiamo che ci sono anche dei concittadini del Gem Verde, ci sono delle persone che vivono piano e sono venute a vederle, allora ecco, grazie di essere qui con noi. Perché il Gem Verde? Perché, diciamo, abbiamo pensato a fare questo invito? Per due motivi. Il primo motivo è che il Gem Verde è un gruppo di 19 donne di 14 nazionalità, ecco, per cui già questo ci sembra che sia una caratteristica, diciamo, significativa che li rappresenta. E poi sappiamo che loro, con la loro arte, con i loro spettacoli, con le loro canzoni, portano un messaggio di fraternità e di pace, per cui ci sembrava bello, no? No, perché di solo, non mi festa. No, non mi festa. Benvenuti, sta iniziando, Gem Verde Agusti! Ricordati! La musica mi delcorazone mi hace vibrare, me da las ganas de vivere, me da bla e sonreire. I amas me vuelve a despertar con su luz Me da las libres abrazó y con mi ritmo alegre voy Hey, esta vida es estufruita, vamos a bailar Y verás que todos los problemas desaparecerán Hey, mi familia, tu es un chenzo, no fui per noi Balleremo ad occhi chiusi, balleremo a mire di nudi Oh, 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 quanta vita c'è Oh, 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 quanta luce c'è Oh, 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 vento e ritmova Corizondela, dimmi che va tutto